Vi siete mai chiesti chi è la nuova fiamma di Chiara Ferragni? La famosa influencer ha finalmente voltato pagina dopo la separazione da Fedez e la curiosità sul suo nuovo amore è alle stelle. Siete pronti a scoprire tutto su di lui? Restate con noi fino alla fine e non dimenticate di iscrivervi al canale, mettere un like al video e lasciare un commento con la vostra opinione. Chiara Ferragni non ha perso tempo e ha trovato una nuova compagnia. Andrea Bisciotti, un affascinante ortopedico toscano di 31 anni che lavora a Milano. Ma chi è veramente Andrea? Laureato a Parma, lavora sia in una struttura ospedaliera che come consulente esterno. La sua passione per gli e-sport acquatici e le vacanze in barca riflette uno stile di vita simile a quello della Ferragni. Andrea e Chiara si sono conosciuti grazie a amici in comune e la scintilla è scattata durante una cena. Andrea non è solo un professionista di successo, ma anche un uomo dal fisico scolpito, con addominali e mascella ben definiti. Sebbene il suo profilo social sia privato, il suo stile di vita lussuoso non è passato inosservato. Nel frattempo, Fedez si gode la sua nuova libertà con la sua nuova fiamma, Garans Outier. Nonostante la separazione, Fedez non ha perso tempo e ha iniziato a frequentare gli stessi luoghi di lusso che un tempo condivideva con Chiara. Questo comportamento ha sollevato molte domande. È un dispetto nei confronti di Chiara o semplicemente una vecchia abitudine? La relazione tra Chiara e Fedez resta tesa, ma entrambi stanno cercando di trovare un equilibrio per il bene dei, loro due figli. Le loro vite sono ora indipendenti, ma il loro legame genitoriale li costringe a mantenere un contatto costante. Ecco quindi chi è la nuova fiamma di Chiara Ferragni. Un uomo di successo, affascinante e dal fisico scolpito. Cosa ne pensate di questa nuova coppia? Pensate che Chiara e Andrea siano fatti l'uno per l'altra? Lasciateci un commento con la vostra opinione e non dimenticate di iscrivervi al canale e mettere un like al video.